50 mila mi piace e facciamo il nascondino dentro allo star e commentate per la scuola che frequentate elementari o superiori ciao ragazzi siamo io inizio e siamo qui per fare il nascondino ok ragazzi buttiamole giù per chi conta 3 2 1 giu ok conta mister 5 2 7 9 10 14 16 da terzo di me il primo round sarà svolto su questo corridoio su questo piano insomma di questa scuola e raga quindi conto questa sarà la tana quando fino a 50 va bene esattamente io sono da solo raga siamo siamo io e mirko e noi io e mister vai io ci sono fino a quanto conti fino a 50 vai 1 2 3 via oddio andiamo ovviamente solo su questo piano potrà metterci a 9 10 la prima parte che verrà lui sicuro però posso fare una cosa tipo tolgo le scarpe perché farò un cuore 33 34 35 andiamo in cesso raga eccoci ok ragazzi siamo chiusi in cesso io ecco qui il cesso è un artistico si capisce 49 50 50 ho detto finito finito voglio sentire qualcuno sia di là che di qua allora già vedo dei piedi meno dei piedi che è questo ah abbastanza che cosa è successo hanno messo le scarpe lì ma sono sicuro che non c'è nessuno qua si entra mi sa che ci becca eh vabbè basta che non ci prende per primi mi sa che già saranno adottati comunque che infami andiamo qua sotto no vedo qualcuno non c'è nessuno non so se sbilanciarmi andando di là oppure dall'altro lato perché sono tutte e due le zone andiamo qui nessuno sta arrivando mi sa che c'è qua dentro oh man è il mister ma vorrei mister mister vai alzù mister e omba ce l'ho fatta noi dobbiamo uscire ora che va di là lo usciamo per forza diventa di là allora lo senti di qua ragazzi lui ha visto le scarpe e è andato dall'altra parte che tattica raga cioè sei riuscito da tornarti? si che grande è un genio stai sentita a porta ma basta questi dove sono finiti vai diù ecco l'abbiamo rischiata raga l'ho vista era sul corridoio andò dobbiamo sperare che sennò qua ci tocca ci tocca contare dopo eh ho sentito qualcosa qua oggi ho sentito ma non stanno qua vai cerca Andrea cerca vabbè vado a dirà dai devo sbilanciare sennò qua non finisce più bravo Andrea per forza prima o poi devi sbilanciarti non cazzo non ci sono sono nascosti bene ragazzi bene sono nascosti molto bene bravi ragazzi ciao non è qui no no ma no dove eri ma io pensavo fossi di là ma io pensavo fosse questa qua chi è che ha aperto la porta di là no io sono andato in bagno sono andato a pertutto ma questa qua in bagno te sei venuto in bagno hai detto qua non c'è nessuno eramo dentro noi ah e ho messo la porta chiusa non c'era nessuno dentro e vabbè ho vinto siamo stati tanati io e mister per primi tocca a uno di voi dobbiamo andare a contare te l'ha visto per primo quindi direi che devi contare tu secondo round ragazzi siamo qua nel cortile come state vedendo tocca a me a contare ecco qua tutti i ragazzuoli bella vai vai home questa è la Tana come state vedendo in secondare perché il giardino è bello grande conta molto lentamente yes ci becca sicuro io sono da solo 4 5 6 oh guarda lo devo ancora perché questo lo devo ancora nascondiglio nascondiglio prima di una gara nella gara oh oh ho cato non so se è igienico non c'è igienico andare di cassonetti non lo so 19 20 21 22 qua dietro tanto guardiamo per qua mezzo basta che non ci muoviamo capito basta che non ci muoviamo ma che schifo vero facile 38 39 40 andiamo verso di qua ragazzi e rifacciamo tipo il giro e lo sorprendiamo da dietro 40 40 allora io me la gioco qua che me lo raggiro 49 50 allora il problema di questa Tana ragazzi è che sono proprio in mezzo a tutto il giardino quindi c'è una volta che batte zullato deve essere quello e basta questo è quello più corto quindi in teoria vorrei buttarmi di qua come forse c'è meno gente aspetta che là ho già visto qualcuno fammi vedere chi è allora vedo la maglia verde e la maglia bianca quelli sono Tati e mister ciao ragazzi andiamo a tannarli Tana per Tati e mister come mister hai sbagliato robe non è mister Tati e Mirko vabbè hai capito dai dobbiamo sperare noi adesso che stiamo facendo il giardino forse siamo vicini non andiamo a portare Mirko c'ha beccato tu dovevi andare di là tu dovevi andare altrimenti cacchia dai se tu ci ha visto stanno andando di là andando di qua mancano mister e Harry che sono in coppia e Andrea che è da solo invece andiamo di qua sempre come ho detto è il lato più corto ma mi devo guardare tutte le volte alle spalle stanno andando di qua stanno andando di qua allora qua è un bel è qui raga ho visto qualcuno ci ho visto ci ha visto ci ha visto andiamo a correre indietro c'è qualcuno però devo capire chi è cavolo 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 aspettate 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 chi sei ok vedo la cam ciao Andrea forse non ce l'ha conosciuto corri 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 язы No, Andre Stava per Andrea Cacchio, preso Me lo puoi mettere dentro i bidoni, ma la sala monnezza Adesso mancano gli altri due Andiamo, andiamo su Paresca, vai Andiamo, andiamo Ragà, fate salvi tutti Non so se ce la faremo, però Abbiamo una speranza con Harry Harry e mister, manca anche mister, ma sono insieme Harry e mister Harry e mister Qua, qua Qua non ci può mai vedere Ok Dove sono Harry e mister? Questo è un bel problema Io vado insieme a Ommo vado Sono per forza di qua, eh Che avrebbero già fatto Tana, se no Vediamo se sono usciti Ok Non sembrano essere usciti Non c'è ancora nessuno Proviamo il colpaccio Dove andiamo? Andiamo verso Tana Vediamo un po' ok Ma dove cavolo sono? Hanno fatto il giro Mi hanno inculato Hanno fatto il giro sicuro Scendiamo le scale Eccoli Eccoli Sì Eccoli Vai 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 Gli ho presi tutti Porca me Sai Proprio come dei coglioni Ci siamo fatti prendere Ma era di là Ma non l'abbiamo visto passare Ma forse è venuta da di là Ha fatto il giro È venuta da di là No Tana Per mister Ed Harry Eccoli là Scusa Eccoli là Ma perché Hai fatto il giro per di là te? Sono il numero uno Gli ho tanati tutti ragazzi Quindi ragazzi Prima coppia tanata Mirko E Tati Beh visto che Tati è il canale singolo Tati con Tocatè Tocatè Sì Terzo round Devo contare io Siamo nella palestra Di questa scuola E sarà Forse un po' più facile Perché la palestra Comunque non è grandissima Adesso vediamo 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 Apparenza inganna a volte Davvero Mi metto a contare Alla porta E vediamo 3, 2, 1 Non guardare Tati però Io sono da solo questa volta raga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ormai siamo qua 46, 47, 48, 49, 50 Raga Mi sono messo dietro qua Il mio dito dice che a destra ci è andato qualcuno Il mio dito Poi si è andato a correre qualcuno di qua Vediamo un po' se è ancora lì che corre Qua dentro Non c'è nessuno Forse Qua dentro Non c'è nessuno Però 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 il mio dito ha visto qualcuno di qua C'ha visto ha sentito Non ha visto il mio dito Chissà dove sono gli altri Oh ciao Henry Come ha fatto a vedermi Oh anche mister Ciao mister e Mirko Grazie Raga Il mio dito ha sentito tutti Ma come hai fatto a vedermi? Ho visto una cosa Visto che è da solo E' più facile Diciamo non trovarlo Dai Ti ha contato Vabbè quindi tocca a me adesso Esatto Vabbè Quindi ragazzi Finiamo Da dove siamo partiti La Tana è sempre questa qui Quindi direi che possiamo iniziare Questa volta sono da solo io Siamoci un bel nascondiglio Mirko mi raccomando Nascondiamoci bene 3 2 1 Via 1 2 3 7 8 35 36 37 Ok mi metto là dietro 48 49 50 Arrivo raga Ssss Beh Iniziamo per di qua Non c'è nessuno Raga Sogno un angolino Strettissimo Cazzo fa questo con le scarpe Dei tatti ho preso troppo un colpo Si stavamo uccidendo Si ho tannato i fiusi ok Per povera Deve andare troppo a più là Deve andare Aspetta un attimo Guarda Mi tolgo le scarpe e corro Secondo me Qua c'è qualcun altro Te l'ho permesso Ma non vale la tecnica delle scarpe all'ultimo però Di qua per forza ci deve essere qualcuno O se hai tolto le scarpe e è nato di là direttamente Perché io sono sicuro che c'è qualcuno Sembrava impossibile Ma alla fine ce l'hanno fatta E vabbè Sono home E' riuscita a tannarsi Grande home Quindi ragazzi ho tannato Tutti Tutti i treni home Vabbè dai Se l'ho fatta grande Turno onesto Quindi ragazzi Ringraziamo il liceo Cottini di Torino Per averci ospitato Vi ricordiamo che a 50.000 mi piace Ci facciamo una scontina all'interno dello stadio Quindi ragazzi lasciate like Iscrivetevi ai leads E noi ci vediamo al prossimo video Si Ciao